Ciao a tutti da Cristian TG, salutatore del blog, ecco qui con il grandissimo Enrico Luggeri. Ciao a tutti. Ecco, siamo qui al primo maggio, le due canzoni ci hanno fatto sempre sognare, facciamo un saluto a tutti i fans degli anni 70-80? Anche agli altri, insomma, la musica non ha decadi, ha un atteggiamento buono o meno buono, quindi a tutti. Ecco, polvere, portiere della notte, tantissime e bellissime canzoni hai fatto, ci dici qualche anticipazione? Ma farò un po' di pezzi, adesso ci riuniamo e decidiamo quali. Ok, grazie, un saluto a tutto il web. Ciao, ciao a tutti.